Fano con Ruggeri e Pirandello, dunque si riaccendono i riflettori su questa manifestazione che ha riscosso un grande successo e che continua a coinvolgere tanti giovani. In effetti Fano ha una grande potenzialità con questo personaggio, è una grande figura che raccoglie veramente l'attenzione non solo nazionale ma anche internazionale. Pensiamo che Ruggeri ha fatto il suo exploit in Inghilterra, Lorenzo River ha applaudito la grande interpretazione dell'Enrico IV. E proprio perché Fano ha questa capacità di riconoscere la forza del teatro attraverso questa figura abbiamo pensato che l'iniziativa dovesse andare avanti nel tempo perché ha trovato veramente il consenso articolato nella città e non solo quindi nello specifico del campo attoriale ma soprattutto in quello che noi consideriamo il pensiero dominante del progetto e cioè le nuove tecnologie dell'arte. L'incontro si svolgerà sabato 25 maggio, quale sarà il programma previsto? Partiamo con una performance degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Urbino con Giuseppe Esposto che farà un omaggio anche lui alla follia che è il tema principale di Pirandello citando naturalmente Basaglia e allora questa performance sarà coniugata con un'esposizione d'arte e in effetti ci saranno dei quadri ma soprattutto ci sarà un'intervista o anche la figura stessa, la presenza stessa di Marco Bellocchio a cui abbiamo dedicato appunto il programma con tutte le sue filmografie relative a Pirandello perché in effetti nella cinematografia di Marco Bellocchio abbiamo proprio la possibilità di vedere che Pirandello è sempre presente la Baglia in particolar modo, l'uomo dal fiore in bocca e l'Enrico IV che è il cavallo di battaglia appunto di Ruggero Ruggeri, grande interprete di questo testo e di questo testo appunto ci sarà la lettura di Arianna Linki con Andrea Carnevali che è un grande studioso pirandelliano per dare proprio il senso del passato con il futuro Nel pomeriggio invece che iniziative si svolgeranno? Ci sarà animazione e soprattutto una sorta di immaginazione, quello che è il cinema digitale, i videomaker indipendenti per Parolo Freda presenteranno la sua rassegna E' proprio per questo che c'è stato l'interesse anche dei soggetti che hanno partecipato a questa iniziativa, la Fondazione Carifano, la BCC, l'Accademia di Belle Arti di Urbino e soprattutto il pensiero che si potesse fare all'interno, promozione culturale per i giovani, ha portato sì che la scuola Nolfi-Apolloni recuperasse anche il suo interesse verso il teatro con performance fatte proprio all'interno della Rocca Grazie! 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 Grazie!